Scatman's World La grafica mi sembra anche peggiore del precedente Super, super, super disastro ragazzi Adesso bisogna dare una mano a trovare la soluzione Perché qua chiaramente è vero che devo cambiare il PC perché ha qualche problema Ma non può essere con 12 GB di RAM, una 680, un i7 da 2.8 GHz Non esiste che mi dà problemi, c'è un gioco così Ah si, faccio vedere Ho disabilitato l'audio Anzi, lo riabilito per sentire anche i problemi audio Adesso ragazzi vediamo cosa succede E questo succede anche quando lo registro E' la stessa identica cosa, quindi per questo sono stra preoccupato Non capisco Sì, ciao La grafica sembra peggiorata Anche qua ragazzi Vai Adesso sento anche i rumori sgranati del motore ragazzi I motori, cioè fioi ma ce li andiamo Senti, senti, senti Guarda Sentite ragazzi i motori Adesso vai di lag Guardate che roba ragazzi Cioè io praticamente non sto Senti davvero tutto Ah scarti Eccoli qua vai Sentite il rumore del motore ragazzi, lo sentite? Cioè Ma che roba RALENTY 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 Però vabbè In questa situazione c'era Quindi se mi potete aiutare O capire cosa può essere il problema Perché ripeto il computer non può essere Dai, cioè Mi sembra un po' impossibile Con una 680 Una i7 No Da 2.8 GHz 12 GB di RAM Se troviamo la soluzione qua Non so, ho potuto via 30 euro Devo prendere anche per Xbox Ma aspetto il computer che mi è arrivato una settimana Non lo so Raga Siamo nella cacca Spero in commenti positivi Ciao